Oddio ragazzi che sono queste zucche zucche oh cazzo zucche drogate Perché Ragazzi la musica è micidiale Ok ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti su gioca con mike E adesso ragazzi allora se non avete o certe volte ci stanno quei commenti o quei 30 minuti che non avete un cazzo da fare Guardate un po' su steam trovate giochi diciamo tipo 2 o 3 euro come questo 3 euro tomato way E già la musica la musica è bellissima ragazzi Non so di cosa si tratto ho visto tomato way l'ho caricato ragazzi quindi inizio subito con il gioco Difficoltà easy normale hard facciamo normale che cinese Mi piace già la musica mi piace iniziamo il gioco nuovo vediamo cosa succede Ah ragazzi c'è pure figo vediamo vediamo sarà una storia interessante non si sa oddio Un quale sono ossa Vediamo come ragazzi Ok ok Sono un pomodoro Che fuma Una lettera per te signore Una lumaca Oddio La posta la posta Che è russo Novta che significa posta in russo Comunque perché un pomodoro fuma una pippa ha un fucile e ascolta la radio e si siede come un cinese Ma questo non lo capremo mai ha una cicatrice tipo The Witcher Chissà cosa gli è successo Sarà un cacciatore di mostri Geralt di Riva Ok ragazzi Una cipolla Aglio Una cipolla un aglio Ragazzi qua c'è C'è la verdura assassina qua in questo gioco Ok vediamo ragazzi si parte o non si parte Poi perché Che gli viene in mente a fare un pomodoro Il tuo nome è pomodoro Le persone vogliono soldi per la tua morte No pagano soldi Ok ragazzi Una carota con un papillon ragazzi Una carota con i pap... Vodka Ma perché no prendiamo la vodka Jukebox? Ah ok Eh Che c'è qua? Eh Sembra Clint Eastwood The Sheriff Dove è il sheriff? Non lo so cosa dice Ok una forchetta Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Ecco stanno attaccando Le verdure assassine ragazzi Devo Oddio Oddio li sto tagliando tutto Ma le sto tagliando tutto Quelli che cazzo sono Carciofico Carciofinzetti Ragazzi tipo Silent Hill Ascoltate la musica Ok ok Continuiamo Oh cazzo Cazzo Madonna Ok Fa anche un po' paura Eh Ok posso saltare Perfetto posso saltare Oh 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 Ragazzi Li taglio a metà Fì È forte sto gioco Ok che abbiamo qua Granate Prendi Salta Perché c'è musica Delle alpi ragazzi Il lo yodel C'è Oh cazzo Crepa Crepa Non so che cavolo so Ah questo lì Come si chiamano Quei insetti Che attaccano le Le patate Quelli che mangiano le patate Ok vabbè Ci proviamo ragazzi Vediamo l'audio Sta tutto a posto Oh cazzo La carota Madonna Ragazzi c'è Figo Cosa è una candela Ok Oddio ragazzi Che so queste Zucche Zucche Oh cazzo Zucche drogate Perché Ragazzi la musica è micidiale Ma perché ci sta Ragazzi Sono drogati questi Se me lo potete dare un po' Per favore No Nel naso Devo dire che voi russi Proprio State un po' Male Prendiamo pure Sta roba Qua su Ok Questo ancora porta musica Tu chi sei? Ah e Ok Prendiamo Prendiamo tutto Sì Sembra giusto Fa già un po' Oh cazzo Oddio Mannaggia la tua La forchetta La forchetta Il martello Perdiamo il martello Il martello ragazzi Il martello Il martello Martello Ok 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 Ho capito Ho capito La forchetta Dove Ecco qua La forchetta È l'arma più potente Di tutti Devo dire Mamma mia Ma anche le verdure Non mangio più verdure Ragazzi Non mangiate verdura Non va bene Non so cosa faccio Con il tasto destro Del mouse Vediamo di nuovo Ah Rallenta i nemici Ok Rallento i nemici Perfetto Ok ragazzi Questo mi sa che È il compattimento Tra il big boss Così Il cetriolo Oddi Um Tempo di mangiare Boss Dove sono i miei occhiali C'ha tre occhiali Lo chiamo Tre citriolo Occhialato Tre citrioli C'è Tritriolo Occhialato Ok Pensavo che era più difficile Però mi ha dato un uzi Vabbè Perfetto Oddio Ok Salviamo i nostri pomodorini Ragazzi No So ciliegie Non so pomodori Ok Non posso già ucciderlo Beh peccato Purtroppo no Vai Dai Vai In modo Uh È bello che la forchetta È piena di sangue Forte Come gocciole il sangue Ok Ecco qua ciliegini Scappate Oh ciliegie Però non è fatto male il gioco Non è facile eh Non è facile il gioco ragazzi Ok Ok Ecco qua C'è ancora C'è ancora C'è ancora Ma Vuol dire Io non lo so Forse Quelle Quelle zucche drogate là Con le sirinche Inviccate nel naso Erano forse un segno Di come doveva Stare il produttore Di questo gioco Mentre Che ha fatto questo gioco No Uccidiamo a questo qua Ok Mi ha ucciso lui Peccato ragazzi Comunque Tomato Way Siamo il pomodoro Super killer Con la forchetta Eh Cosa abbiamo più Martello gigante Il fucile La uzi E poi Stranamente Non so cosa significa Un momento Si può tirare la granata No Non si tira la granata Vabbè Fa niente ragazzi Spero questo gioco Vi sia piaciuto Non so se lo porterò Ancora Liberavo Il mio ciliegino Qua Posso ucciderlo No Ok Peccato Come detto ragazzi Spero il gioco Vi sia piaciuto Lasciatemi un bel like Se vi piace Mi chiudo qua dentro Così la verdura Non mi può prendere Lasciatemi un bel like Ragazzi Iscrivetevi Iscrivetevi Passa tra i muri Iscrivetevi ragazzi Dividete il mio video Per favore ragazzi Guardate il mio video L'ultimo che ho fatto Dell'iscrizione E della sponsorizzazione Mi si spiace Della sponsorizzazione Così potete anche Farvi sponsorizzare Come detto Ogni 50 iscritti Ragazzi e ragazze Vi saluta Il vostro gioco Con Mike Ciao a tutti Ciao Ciao